Si nascondeva a Venezia uno dei due rapinatori che lo scorso venerdì sera avevano ferito a colpi di pistola il benzinaio quarantenne Marco Lepri mentre rientrava nella sua casa di Busto Arsizio in provincia di Varese. A sparare era stato il 51enne Maurizio Fatto Bene che aveva esploso tre colpi contro il benzinaio ferendolo all'addome e alla gamba sinistra. Dopo l'arresto aveva confessato la sua colpa rifiutando però di rivelare il nome del complice. Secondo gli investigatori si tratta di Antonio Vito, 48 anni, rintracciato e arrestato in laguna dagli uomini della squadra mobile di Varese grazie anche alla collaborazione della Questura di Venezia.